Salute e economia finito tutti i riflettori, soprattutto in questo periodo, perché in questo periodo c'è stato il Covid-19, c'è ancora e la seconda riga dovuta non ci dà buone speranze. Ringrazio per stare qui con me il Presidente Antonio Pestici, il Presidente del Villaggio della Salute. Grazie Antonio perché sei tornato, perché in parte avevi ragione in merito a come si stava decidendo di affrontare sul piano delle regole e delle decisioni da parte della politica il tema di come convivere, come una società potesse convivere col Covid-19. Mi sembra che questa convivenza non sia riuscita e quindi di nuovo ricominciamo con le chiusure. Per adesso parziali, forse tra qualche giorno di nuovo in lockdown. Che ne pensi? Ma intanto io non dico di avere ragione perché sarei troppo presuntoso. Io dico che, ed oggi ne parliamo, quello che è la nostra tesi, visto che questo non sta funzionando perché noi stiamo facendo danni all'economia, veramente dei danni incredibili, stiamo uccidendo delle attività, eccetera. Io non faccio nessuna colpa al governo perché se guardiamo in tutto il mondo sta così. Quindi io non sono assolutamente contro il governo. Faccio il tifo per il governo perché ci sono loro. Se c'era un altro governo facevo il tifo anche per quell'altro governo. Perché sono quelli che adesso hanno in mano, in un certo senso, le nostre sorti. Anche se poi siamo noi cittadini che dobbiamo collaborare. E abbiamo collaborato, ma non tutti lo hanno fatto. E quelli che non hanno fatto hanno concorso, insieme forse a scelte non adeguate, a creare la situazione che oggi noi abbiamo. Quindi è chiaro, mascherina, distanziamento, areale e locali, perché a differenza tra il chiuso e l'aperto, è che al chiuso si concentrano il virus. Rimane nell'aria, no? Quindi tu puoi respirarlo. Se noi arriviamo i locali, ora noi abbiamo fatto, non ci abbiamo i tempi televisivi, non ci consentono di sviluppare un ragionamento così di dettaglio, perché poi le cose si confermano nei dettagli, no? Si confermano nei dettagli, non nel panorama. Fare i discorsi è facile, ah facciamo così, sì. Poi dopo vai a vedere se è realizzabile. Tant'è vero che una trasmissione 6-7 mesi fa, all'inizio del Covid, qui dissi, io non dico, se arrivasse il Presidente Conte e mi dicesse, Antonio facciamo questa cosa che dici te, io gli direi, no che sei matto. Cioè facciamo un esame di fattibilità per vedere se questa cosa può funzionare, perché comunque possiamo dire che quella che abbiamo fatto, non lo so quanto ha funzionato. Comunque gli ospedali si stanno riempendo e il panico... Ci sono persone che stanno 8 ore in autoambulanza, ci sono persone che muoiono, ci sono persone che soffrono tantissimo, perché chi li prende in maniera diabetica, ipertesi, persone di una certa età, abbiamo le statistiche che sono no le mie, sono quelle dell'ISS, sono quelle della protezione civile, e qui io adesso volevo un attimino fare un'esposizione di questo discorso, un ragionamento, un ragionamento che non è esaustivo, perché non ci sono i tempi, i modi, eccetera, che però può dare un'idea per capire, la vogliamo analizzare questa cosa o no? È così difficile? Vediamo un attimo, perché a nostro avviso potrebbe funzionare, però sta poi alle istituzioni preposte fare un'analisi su questa ipotesi e vedere che non sarebbe così tanto onerosa. Allora, noi vediamo un attimino questo, questi sono dati fonte protezione civile, per esempio, quindi noi abbiamo fatto fino al 25 ottobre di quest'anno 14.654.002 tamponi, le persone che sono risultate positive sono 525.782, la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati, cioè i 525.000 su 14.000.000 sono il 3,59%. Quanti sono deceduti di questi 14.000.000, o se vogliamo dei 525.000.000 infettati? Ne sono deceduti 37.338.00, la percentuale dei deceduti sui tamponi fatti, cioè sui 14.000.000 sono il 0,25, cioè noi abbiamo fatto 14.000.000 di tamponi e sono deceduti il 0,25% di questo numero. La percentuale invece dei deceduti sulle persone positive, cioè sulle 525.000, è il 7%. Quindi questi sono dati, ok? Noi partiamo quindi da questo assunto. Andiamo a vedere anche la fascia di età, no? Cioè perché dobbiamo pure capire chi sono questi. Per arrivare al mio ragionamento dobbiamo capire quello che è successo, dobbiamo capire, beh, 14.000.000 è un bel campione su 60.000.000 di abitanti. Quindi la fascia di quelli che hanno avuto, diciamo, questi problemi, sono più va in aumento e più, vediamo qui, da 50 a 59 anni, 1294. Parliamo dei decessi. I decessi aumentano l'aumentare dell'età. Sì, con l'aumentare dell'età, diciamo, vediamo che da 70 a 79 sono i miei e c'è, poi da 90 in poi sono di meno, ma sono anche di meno forse i 90 anni. Certi, i 90 anni. Quindi chiaramente vanno capiti. Ora, noi facciamo questa cosa, ma non abbiamo il tempo di fare una cosa scientifica approfonditissima. Non è perché non l'abbiamo fatta, è perché non abbiamo il tempo qui per farla. Dovremmo farlo insieme alle autorità. Poi andiamo a vedere un attimo ancora quelle che sono le patologie che per quanto riguarda i deceduti, quindi allora il 63,6% dei deceduti aveva tre o più patologie croniche preesistenti, diabete, pertenzione, eccetera. Il 19,6% ne aveva due, il 13%, quindi più patologie come vedete e più il rischio morte, quindi l'età e patologie, ok? E zero patologie solamente dei 3,5% di questi deceduti avevano zero patologie o perlomeno non se ne siamo accorti, non lo so. Potrebbero essere morti solo per la polmonite dovuta al Covid. Ma va bene, diciamo che comunque sono pochi, ok? Allora, se noi andiamo a vedere un attimo, c'è una fonte agi, una che... Fonte Ministero della Salute e messaggero. Ah, va bene, allora qui... Gli anziani in Italia. Gli anziani in Italia sono il 35% degli italiani e over 65. In Italia abbiamo 14 milioni di anziani, quindi sopra 65 anni. Oltre 7 milioni sono invece oltre 75 anni. Quindi, qui poi bisogna interpretare i dati bene perché altrimenti ci confondiamo. Lì c'è scritto 14 milioni di italiani hanno almeno una patologia. Vabbè, diciamo, lasciamo perdere questa... Ora hanno levato la slide, comunque. Allora, quello che io dico, no? Scusa un attimo, vediamo. Ecco, c'è una stima del costo della pandemia che è fonte agenzia dell'Aggi, ma ce ne sono anche altre, noi abbiamo citato questo, dove prevedono che alla fine il costo di questa pandemia, tra i bonus, tra la cassa integrazione, tra i danni, tra il pille che cala e tutto il resto, praticamente alla fine ci costerà 160 miliardi. Allora, a mio avviso, se noi avessimo preso quindi anche semplicemente i soldi del MES, ipotesi lockdown mirato per persone realmente a rischio. Quindi se avessimo deciso di prendere i 36 miliardi del MES per effettuare un lockdown chirurgico, perché qual è la nostra tesi? L'abbiamo già detto nelle trasmissioni passate. Cioè la nostra tesi... Torniamo a studi un attimo? La nostra tesi? La nostra tesi è quella che forse fare un lockdown per le persone a rischio, cioè se noi abbiamo un problema, no? Cioè perché dobbiamo fare l'assicurazione per chi non c'è la macchina? L'assicurazione si fa per chi c'è la macchina, perché è lì che sta il rischio. Quindi io dove ho i rischi, o dove ho un problema, devo mettere la babysitter al mio figlio di un anno, non al mio figlio di vent'anni. Isoliamo le persone fagili? Allora, noi andiamo a fare chirurgicamente lì dove sta. Poi con un'attenzione maggiore su quelli che abbiamo visto, con tre patologie di una certa età, eccetera, un po' meno su quegli altri, eccetera. Quindi il lockdown, tutti i tamponi, eccetera, potrebbero essere fatti semplicemente per le persone che stanno in isolamento, che sono a rischio, e per le persone che sono costrette a tagli intorno, per esempio quelli delle RSA. Oppure i nipotini che vogliono andare a trovare il nonno, se non si fanno il tampone, non ci fanno manco se si ammazzano, cioè voglio dire, non ci possano andare. Quindi però tutto, se noi concentriamo su questa parte, invece di cercare di salvare il paese, alla fine non salviamo nessuno, non è vero che ne salviamo nessuno, ma ne salviamo di meno, noi mettevamo tutti quelli che stanno a rischio, li mettevamo, cioè se io faccio il poliziotto, la pistola che la porto a fare, voglio dire, il concetto è semplice, l'applicazione dobbiamo vedere se è possibile. Io l'ho capito, tu hai detto, in caso di pandemia dobbiamo identificare la persona fragile, la persona fragile va identificata. Allora, dobbiamo mettere... Dopo di che lui e le persone che vanno in contatto con lui devono essere, come dire, unidolate. Allora, gli scienziati americani che hanno... Adesso questa cosa che dicevo solo io, c'è un gruppo di scienziati americani che invece lo dicono... Ci sono dei ritagli di giornali su questo, no? Ci sono dei ritagli di giornali, sì, non so se l'hanno a casa bianca. La casa bianca sarebbe inclina all'immunità di greggio, New York Times. Sì, però adesso io sull'immunità di greggio ci credo se metto non alla Johnson. Cioè, se noi mettiamo in sicurezza quelli che rischiano, mi sta pure bene che gli altri... Però io non direi liberi tutti. Io direi... La lettera degli 80 scienziati arriva all'indomani di una petizione online e di un documento denominato The Great Barrickton a firma di un utrito gruppo di altri scienziati guidati da J. Buck Kaya, epidemiologo ed esperto di malattie infettive degli standard unire del Stanford University dove lavora anche il dottor Scott Atlas, consigliere scientifico di Donald Trump. Nella lettera sposata alla Casa Bianca vi è suggerito di lasciare che il virus faccia il suo corso tra i giovani e le persone in buona salute che difficilmente sviluppano una malattia severa puntando a proteggere e isolare coloro che sono più vulnerabili per età e condizioni cliniche. Ecco... Allora, ti ricordi, Diego, ti ricordi che ero solo io a dire questa cosa ma te lo ricordi che nessuno era d'accordo su questa cosa? Oggi finalmente lo dicono... Anche la Meloni per parlare di un nostro politico ultimamente ha fatto un post, un tweet, una cosa di messaggia... Eccolo qui. Eccolo qua. Dove praticamente dice proteggiamo i più deboli. Di fronte all'aumento esponenziale dei contagi... Ecco qui il post. Di fronte all'aumento esponenziale dei contagi il governo naviga a vista. Va bene? Continua a fare la cosa più semplice cercare un campo respiratorio di dare. Sì, va bene. Qui poi fanno la polemica. Massa crazy ai settori ma apa 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 le perdedate perderanno prendiamo la spenza dei sui dati conoscere il generale dei contagi il governo appeso dei bisogni fondamentali lei dice perché non ci siamo... come dire... Adoperati adoperati per mettere in sicurezza quelli più fragili? Allora, adesso in Ure ci andiamo a vedere tutti gli ispezioni i giornali cose eccetera Quindi già autorevoli persone o politiche o scienziati, ancora meglio, come abbiamo visto prima nel caso degli americani, stanno portando avanti la tesi che io porto avanti dall'inizio del lockdown, ci abbiamo scritto, ci abbiamo fatto una più trasmissione, l'abbiamo detto questo discorso, oggi lo stiamo dicendo con i numeri in un altro modo, non abbiamo il tempo, se noi avessimo un'ora di tempo ci metteremo qua e faremo pure il dettaglio. Come facciamo a fare queste cose? Se io ho nonna e nonna e due bambini, che cosa faccio? Per andare nello specifico servirebbe il tempo. C'è una commissione tecnica scientifica, no? Sì, ma noi ci siamo andati perché poi ci sono alcune cose, noi ci basiamo sui dati scientifici, sulle statistiche che dicono e poi sul ragionamento, ragionamento che possono fare persone che sono abituate a fare organizzazione, che sono abituate a gestire determinati problemi. Ok, io l'ho fatto anche insieme a altre persone, anche addetti ai lavori, questo discorso potrebbe funzionare. Se funzionasse, che cosa succederebbe? No? Noi avevamo una slide dove andiamo a vedere tutte le conseguenze che noi riusciremo ad evitare se facciamo una cosa di questo genere. E qua basterebbero i soldi del Messe. Era l'ultima slide che avevamo messo prima, vediamo un po' se riusciamo a recuperarla e così la rivediamo. Se avessimo deciso di prendere i 37, poi lo vogliamo fare che i botte, secondo me va preso il Messe, però lasciamo stare, se no qui entriamo nel poli di Chiesi. 36 miliardi di euro del Messe effettuato per le persone a rischio avremmo potuto evitare tutte queste cose. Intasare gli ospedali, rinviare la diagnostica per i malati di altre patologie, cosa gravissima. scongiurare numerosi decessi, chiudere le attività e le imprese, sono venute qui da me a lamentarsi, avevamo prima il presidente degli esercenti di Roma e del Lazio, non utilizzare la cassa integrazione perché è una conseguenza delle chiusure, evitare di perdere posti di lavoro quando finirà il blocco ai licenziamenti. Sì, però, perché l'elenco è lunghissimo, queste sono alcune cose che abbiamo voluto mettere in questa slide, ma l'elenco è lunghissimo, è lunghissimo l'elenco di quelli che sono i vantaggi che noi avremmo acquisito. È la bacchetta magica? No, non dovremmo fare sacrifici? Liberi tutti quelli che non sono a rischio? No, io prenderei delle precauzioni, una volta messi in lockdown le persone a rischio e quindi liberiamo anche gli ospedali perché poi qualcuno si ammala lo stesso, diventerebbe un'influenza. Dice, dove muoiono anche comunque migliaia di persone, dice allora vuoi far morire migliaia di persone? No, perché oggi grazie a questo discorso, grazie purtroppo, ma c'è anche il lato positivo, mettiamo le mascherine, abbiamo capito che dobbiamo tenere la distanza, perché anche per una semplice influenza, ha gente in metropolitana che stavano attaccate tutte, domani li vedremo con la mascherina, cercheremo di fare delle cose, non è il liberi di tutto, però non chiudiamo niente, non chiudiamo niente, limitiamo un pochino, però le persone che non ridono, rischiano, ma perché dobbiamo fare questo discorso che ci stiamo suicidando? Allora è possibile fare un lockdown, chiamiamolo chirurgico, con delle fasce di sicurezza massima, che ne so, RSA, e a scendere piano piano, spendendo quello che basta. Noi abbiamo fatto dei calcoli di quello che potrebbe essere speso, perché ci sono delle cose che non ci costano nulla, nonna e nonna che stanno a casa, bisogna solo portargli la spesa in un certo modo, bisogna fare il tampone alle persone che vanno a trovare, bisogna controllare alcune cose, eccetera. Quelli che stanno nella RSA, in altri modi, costano di più, però se noi andiamo a fare il costo di questa cosa, i soldi remessi bastano, avanzano e ci davano la possibilità di migliorare anche il sistema sanitario, che fa acqua, che fa acqua. Ma perché fa acqua e qui torniamo al villaggio della salute? Ma insomma, chi si sta ammalando, chi ha il sistema, gli immunodepressi, quelli che per l'età o per le malattie hanno un sistema immunitario che non riesce a fare il suo mestiere. Qual è il mestiere del sistema immunitario? È quello di difenderci da virus, da batteri, da cellule tumorali, eccetera. Allora, come si indebolisce il sistema immunitario? Gli ipertesi e i diabetici di tipo 2, quindi non autoimmuni, ma malattie da comportamento, cioè se io mi comporto bene... Cattiva alimentazione, cattiva alimentazione, sedentarietà, abbiamo 23 milioni tra obesi e sovrappeso. Cioè, questa cosa qui, quello che dice il villaggio della salute, quello di cominciare a organizzare qualcosa, no per curarci, perché alla fine ce la facciamo, non abbiamo i soldi per curare tutti, ma quello per non ammalarci, perché è importante curarci, ma non ammalarsi è meglio. E come fai a non ammalarti? Con le pasticche. Non ti ammali se tu hai uno stile di vita corretto. Perché noi siamo quello che mangiamo. Perché poi le cardiovascolari, le tumorali, da che cosa derivano? Dal diabete, dall'ipertensione, derivano da lì. Ma in realtà... Questo è il discorso. In realtà, però, non hai frega niente a nessuno. Perché pensano di perdere fatturato. Non si perde fatturato perché ci sono tantissime attività, se ci ascoltate, che possono essere fatte prima e che poi, quando le fai, abbassano il fatturato dei farmaci, di farmacopoli, di sanitopoli, eccetera. È vero. Però tu hai fatto altre attività prima. È come se ci fosse un momento in cui ne passiamo dalle carrozze alle macchine. Tu fai le macchine, ma non fai più le carrozze. Quindi sostituisci il fatturato delle carrozze col fatturato delle macchine. Perché io faccio l'imprenditore, quindi non voglio mandare a casa aziende, far licenziare la persona. Io dici... Ma come succede? Ma io ho la macchina elettrica ormai, questo sarà il quinto anno, ma è chiaro che adesso, mano a mano, che fanno le elettriche, faranno di meno di quello. Allora, comparto medicina, occupatevi, come dire, meno della cura, come si dice, ma occupatevi anche della promozione. Allora, ci sono delle attività che gli imprenditori della farmaceutica o della salute possono avviare per fare prevenzione. Ma abbiamo il tempo, se no faccio una trasmissione e ne parliamo la prossima volta. Ci abbiamo il tempo, parla, parla, devi tutto. Praticamente questo è il discorso. Allora, le attività che si possono fare, per esempio, una cosa, noi ci dobbiamo arrivare, perché se non facciamo tutto il ragionamento, poi la gente non capisce, dice, come fai, hai saltato, no? Dice, sono arrivato, non ci hai mai grattacicolo, dice, però l'ascensore ci sta, è scale. Cioè, bisogna capire come ci arriviamo. Vai, cominciamo a ragionarci. Non ci sono i tempi. Allora, se noi organizziamo, oggi per esempio, io sto da un sindaco, con tutto il lockdown, però abbiamo detto, senti, non ci possiamo fermare, rispettiamo le regole, assolutamente, rispettiamo le regole, assolutamente, ci mancherebbe. Purtroppo sono regole che vanno rispettate, altrimenti abbiamo delle conseguenze. Quindi non vi mettete in testa che il virus non esiste e tutte queste stupidaggini. Specialmente lo dica ai giovani, perché poi voi giovani fate morire gli anziani, quelli che hanno i problemi. Non morite voi magari, ma gli anziani. Per quanto oggi in terapia intensiva cominciano a starci pure qualche giovane, insomma. Quindi non scherzate. Poi comunque la malattia, ce lo dice Nicola Porro, parliamo di persone a sofferto, non è che non ha sofferto, comunque non è una barzelletta. Quindi non vi ammalate, per favore. E per non ammalarvi potete fare solo quello che le istituzioni ci dicono di fare. Come si fa a fare questo discorso di riconversione alla Fonderlion? Non parliamo adesso del Green Deal, parliamo del New Life Deal, quello che ci siamo inventati noi in qualche trasmissione. Cosa è importante? Ecco, allora come si fa questo discorso? Allora, intanto il punto di arrivo, anzi partiamo dal punto di partenza. Allora, se noi cominciamo a organizzare le comunità, quali sono le comunità? A Roma possono essere circoscrizioni, possono essere le aziende, possono essere i paesi. Oggi io vado in un paese che penso avrà 20-30 mila abitanti, adesso non lo so. Qual è il paese? Non me lo fa dire perché poi quando il sindaco ci dice che va bene, io spero che il sindaco... E' intorno a Roma? E' intorno a Roma, sì. Credo, non so quanti abitanti ha, però insomma... Vabbè, è un paese intorno a Roma. Un paese comunque è già abbastanza, è buono per fare un campione. Ora, se noi lì cominciamo a organizzare delle comunità che fanno delle attività, che sono quelle, diciamo, che servono a... Quindi la formazione, perché oggi la gente, mi diceva l'anusizionista, la gente viene da me per una questione estetica, può perdere peso. No, perché sei malato te domani se non perdi peso. E' anche per l'estetica, per carità, ma è un effetto secondario, interessante, bello, ci fa piacere, però non è quello il problema. Il problema è che rischi di armalarti se hai 20 kg in più. Cioè l'idea è perdere peso ma per essere più sano, non perdere peso a prescindere. Certo, quindi è un problema di educazione che non c'è nella popolazione, è un problema di educazione, di sensibilità, di dargli la possibilità di fare qualcosa senza affrontare il mondo. Oddio non posso mangiare, oddio io vado a cena che amici, so solo io che mangio questo. Allora, tanti anni fa, scusami, tu hai ragione, tanti anni fa, ma tu ci arrivi, tanti anni fa, proprio perché ti voglio dare ragione, tanti anni fa si cambiò il nome del Ministero, che non ha più il Ministero della Sanità, ma della salute, proprio nello spirito che tu stai dicendo. Allora dico questo, quindi continuo il discorso che stavo facendo per cercare di vedere dove possiamo arrivare. Allora, sempre detto senza dettagli, non ci abbiamo i tempi, così. Allora, che cosa fai? Cominci a fare, a creare, quando noi diciamo nel nostro spot, comunità diffuse per il bene più prezioso, che è la salute. Comunità diffuse perché? Perché in comunità, cioè se noi dobbiamo diffondere una cultura, non la facciamo da persona, ma uno è poi quello si trova da solo in mezzo al mondo che la pensa diversamente, noi lo facciamo a livello di comunità. Il paese è una comunità, quindi lì noi dobbiamo portare in collaborazione con i medici, in collaborazione con gli imprenditori del luogo, con chi fa cibo, con chi fa tutta una serie di cose. Dobbiamo iniziare a fare formazione, a fare delle attività che creano anche, ricreano quel discorso di stare insieme le persone che non è più sui social, sui paesi è abbastanza più facile, che farlo in una grande città, a meno che non lo fai a circoscrizione. Però hai detto, comunità è chiaro, non possiamo andare a prendere il singolo caso che poi si troverà intorno a persone che hanno un tenore di vita sbagliato. Dobbiamo farlo in collaborazione col primo cittadino, che si ricorda che c'è l'articolo 32 della Costituzione, se se lo rilegge magari così si ricorda che lo Stato tutela la salute, ma se tutela la salute, che aspetta? Te fa ammalare e poi dopo così te cura, e non ce la fa poi con i soldi a curate, quindi devi chiudere l'ospedale, taglia qua, taglia là, e poi la gente non si riesce a curare. Allora facciamo che non sia male. La prevenzione non è solo informazione, la prevenzione è fare. No, la prevenzione è fare, certo, comincia a fare l'attività fisica, chi fa il ballo, chi fa la corsa, chi fa la camminata, chi fa, non è uguale per tutti. No, quindi comincia a organizzare una comunità che si riunisce, che fa la gita, che fa la cena con lo show cookie, cena, gusto e salute, quindi impara a cucinare, vede che io lo sto facendo perché io sono un cretino del passato, che ha detto però, sì, è vero che non si può dire mai, non è troppo tardi, ma si può dire mai aiutare. Hai imparato a cucinare? Io ho imparato a capire come devo mangiare, anche a cucinare, perché no, come devo mangiare perché io pure voglio mangiare bene, quindi come si può mangiare senza andare incontro a, quindi attività fisica, io non l'ho fatta mai da giovane purtroppo, per questo mi sono trovato un casino di patologie, adesso la sto facendo regolarmente, un'attività su misura per me, quindi tutto questo creare, portare, diffondere in una comunità quello che è questa visione, questa visione, questo modello di società. Tu hai testimoniato personalmente, anche se hai passato da X numero di medicine, ad oggi che è quasi zero, e questa è una realtà, no? Sì, certo che è una realtà, è ovvio, io ne prendevo tantissime medicine, andavo avanti di medicine, ma non stavo bene. Oggi ho 70 anni, ho avuto un sacco di problemi, però oggi devo dire che se uno mi dice come stai, se ti dico come mi sento, sto bene, poi non si sa mai perché, chiaramente sto bene, mi sento bene, ho attività, cammino, faccio, e devo fare una corsa e la faccio, salgo le scale, anche mentalmente. Si vede che la mente è energica. È chiaro, quindi voglio dire, questo, tutto questo, quindi nelle comunità cominci a creare questo discorso, si crea una comunità, poi quando stai lì puoi parlare della differenziata, puoi parlare di tante cose, quando hai a disposizione un pubblico che ti ascolta e che entra in questa mentalità e che stanno insieme perché condividono una visione, quindi bisogna portare avanti, è un discorso di educazione, di cultura. I popoli, la differenza tra i popoli, non è che sono alti, biondi, rossi, fa caldo, fa freddo, il problema è la loro cultura, il loro destino, è quello che loro hanno dentro, le loro sensibilità. Eppure c'è stato detto che bisogna portarceli, perché dobbiamo partire dal software per fare l'hardware. Allora, domanda mia, la cucina mediterranea può trovare un suo ruolo nell'ambito della salute? Ma la cucina, allora tu apri dei temi adesso abbastanza, la cucina mediterranea... Chiamata dieta mediterranea? Allora, non è uguale per tutti, ci sono, per esempio, la parte di carboidrati è comunque diminuita, cioè non è che tu puoi fare una cosa uguale per tutti, perché se tu hai 40 anni, sei bello, fresco, sei sportivo, lo sport è messo in un certo modo perché pure lì ci sarebbe... Il carboidrato serve? Allo sportivo? Diciamo, più che dire che il carboidrato serve, puoi mangiare una certa cosa che magari il diabetico, sovrappeso, eccetera, forse è il caso che ci dà un'occhiata su quale tipo, su quale modo, su quale cibi anche mettere insieme, perché poi cibi come li cucini, come li abbini, la quantità, la qualità del cibo, ci sono tantissime cose. Però tutto questo, alla fine, è difficile oggi spiegarlo, ma che cosa crea, se riuscissimo ad entrare nei dettagli, uno vedrebbe benissimo che questo crea una rivoluzione, è nello stesso tempo un piano di riconversione, di imprenditoriale, cioè sviluppa, anche perché una volta che il paese si è organizzato in questo modo, può cominciare a fare l'accoglienza per quelli che vengono da un altro paese, da Milano, eccetera, che vanno a fare il weekend della settimana, che poi continuano attraverso i soci e la possibilità che noi oggi abbiamo, che va insegnata magari meglio ai più anziani, perché la possibilità di fare anche a distanza una serie di interventi. Assolutamente. Però è chiaro che magari, e quindi sviluppi anche il turismo, un turismo salute che si basa sulle eccellenze che noi abbiamo, territoriali, etnocastronomici, tutto quello che vuole. Se la nostra vita quotidiana non ci permette... Però aggiungi questo elemento, e allora su tutto questo discorso qua possono investire gli imprenditori della farmacia, la vacanza della salute, il weekend della salute, il turismo salute, le attività per la ricostruzione di un cibo sano, tutta una serie di cose che possono essere fatte, perché poi... Dovremmo entrare, secondo me, nel merito anche... Sì, però è difficilissimo questo discorso fatto così. E il Ministero del Lavoro dovrebbe entrare anche nel merito di ogni singola attività lavorativa, per capire se quello è compatibile con la salute fisica delle persone. Ma guarda, allora, per quello che riguarda il lavoro compatibile e non compatibile, mi apri un tema... No, migliorabile. Sì, voglio dire, però apri un tema veramente... È chiaro che la persona, a livello, sarebbe interessante, però apri un tema, consentimi, freniamo su questo tema, poi se vuoi parliamo in un altro momento, perché uno deve affrontare dei discorsi sapendo che può dire almeno il minimo, altrimenti è meglio non aprirle certi temi, se no divaghiamo e non diciamo nulla, no? È un tema interessante, io ti potrei rispondere, però... Abbiamo altri 10 minuti ancora, e te o te? Ma è un tema troppo, troppo... Vai, allora, così è qui il cuore di prima. Vediamo che posso prendere da uno spunto, da quello che tu hai detto, cioè che le persone dovrebbero fare ciò che è giusto, ciò che serve, ciò che è giusto per loro, e quindi anche se andiamo a vedere, ecco, nella ginnastica, nell'attività fisica, è chiaro che non possiamo fare tutti la stessa cosa. Uno perché magari a uno gli piace più il ballo, a quell'altro gli piace la camminata, a quell'altro gli piace la corsa, a quell'altro gli piace la passeggiata in montagna, quindi l'importante è che tu ti muovi, e che ti muovi in un modo, perché poi se vai oltre, è anche sbagliato, cioè anche lo sport può essere una cosa sbagliata, perché in uno sport io conosco l'olimpionici, chi ha una protesi, chi ha i problemi a osse articolari, eccetera, quindi non si può esagerare. Il movimento, sì, deve essere una cosa bella, che ci piace, che alla fine se non lo facciamo ci manca pure, ma deve essere adatto, misurato per quello che è la nostra possibilità, che è la nostra, e allora poi se vai al lavoro, certamente è chiaro che, per esempio quota 100, quota 100 deve essere fatta, per quelli che stanno sulle impalcature a 70 anni, io non ce lo tengo, in ufficio forse ce lo tengo, quindi voglio dire, c'è da fare, bisogna vedere anche come sta, quindi non si può fare come i ristoranti, chiudo tutto, o chiudo nessuno, c'è chi si comporta bene, allora nella mia idea non chiudevamo nulla, però avremmo forse rallentato qualcosa, avremmo sicuramente tenuto delle precauzioni, non è liberi tutti, diciamo, mettiamo tutti gli anziani o i ipertesi o i diabetici, o che ne so, su Marte, che quindi non ci stanno, quindi liberi tutti, no, assolutamente no, perché questo ci insegna pure, perché noi possiamo, quest'anno io mi auguro che ci siano meno influenze, con le mascherine alla distanza, assolutamente, perché tutto ciò che è virale, che si diffonde attraverso il virus, se io mi parlo del virus del, come si chiama, del covid, mi parlo anche del virus dell'influenza, se metto una barriera, metto una barriera, quindi questo ci dovrebbe far pensare, perché a mio avviso, noi le mascherine in metropolitana, o in certe situazioni, l'hai detto, lo dovremmo fare da sempre, eravamo alle comunità, mi auguro che lo faremo dopo, eravamo alle comunità, la comunità è fondamentale, per il tuo, la tua proposta progetto, è fondamentale perché queste sono cose, che devono cambiare la sensibilità, e la visione delle persone, devono infondere una cultura nuova, a una cultura che faccia pensare, e quindi fare, perché prima lo pensi, lo percepisci, e poi lo fai, ma lo fai insieme agli amici, a nuovi amici, quindi ricrei anche il senso di comunità, che molte volte non c'è più, specialmente magari in città, nei circoscrizioni, magari io nel palazzo, non conosco nemmeno tutti, se andiamo a vedere dopo vent'anni che c'è sto, cioè gli conosco di vista così, ma insomma non c'è nessuna relazione, quindi cominciamo a rimettere in relazione le persone, che è una cosa bella, non lasciare solo nessuno, poi ci sono un sacco di soluzioni, che noi già abbiamo nel nostro progetto, di dettaglio, non è un'idea vaga, quindi un discorso di dettaglio, consultabile su www.salute.it, no, non è consultabile su www.salute.it, nel dettaglio no, nel dettaglio, nel dettaglio, se un sindaco ci convoca, noi o un'azienda, che vuole fare questo discorso, perché io ne avevo parlato con una grande azienda, questo cavolo di covid ci blocca, non ci dovrebbe bloccare, però poi la gente pensa ad altro e non pensa a questo, così noi non risolveremo mai i problemi, stiamo sempre a correre agli effetti che ci crea, dietro agli effetti che ci crea, invece di pensare a far sì che questi effetti non ci siano più nel tempo ovviamente, quindi voglio dire, se qualche sindaco comincia a darci retta, poi facciamo una vetrina, facciamo un modello, e questo modello poi lo presentiamo anche agli altri, assolutamente, lo sai che appena hai fatto l'accordo, col sindaco, e quindi partirei del progetto, saremo lì a disposizione, oggi parte con delle limitazioni, perché siamo in questo momento, ma non dobbiamo perdere tempo, possiamo fare molte cose, anche adesso in questa condizione, alcune cose non le possiamo fare, altre cose sì. Sono il tuo progetto, oltre alla comunità, e la personalizzazione, vero? Dopodiché ognuno di noi deve essere cosciente di come sta. Allora, noi stiamo lavorando su un soft, e ieri stavamo dicendo, se fare questo investimento, di questi periodi, certo, siamo in collaborazione con dei professori, un'idea che ci è venuta per fare, arrivare a fare un discorso di medicina integrata, cioè di inquadrare, attraverso l'intelligenza artificiale, che aiuta, però questa cosa stiamo vedendo, se farla perché è un impegno, se non ci finanzia nessuno, questa cosa non la segue nessuno, devo dire la verità, delle istituzioni importanti, no? Perché qui servirebbe un finanziamento, per arrivare a darsi, ai medici che appartengono, nutrizionista, medico di base, cardiologo e così via, che appartengono a un certo circuito, dove la persona dice, autorizzo a questo circuito, ogni medico che ne fa parte, di poter accedere ai miei dati, perché poi ogni volta che tu porti, ci metto tutta la tua anamnesi, poi tu vai oggi dal cardiologo, gli porti le analisi, aggiorniamo i dati, vai fra tre mesi dal nutrizionista, aggiorniamo i dati, quindi noi abbiamo sempre una situazione, per cui inquadriamo, il clinico ha la possibilità, il professionista ha la possibilità, di inquadrare il paziente, sempre nella sua evoluzione, cosa mangia, come si muove l'integrazione, quelle che sono l'interazione, tra farmaci già se ne sa, diciamo qualcosa si vede, qualcosa non si vede, cioè chi ne tiene conto, ma col cibo, con gli integratori, con la tua condizione particolare, con gli esami ematochemici, magari aggiungiamo anche il genoma, aggiungiamo, quindi andiamo a vedere un attimino nella specificità, se tu hai delle mutazioni, in esame nutrigenetico, per vedere se hai delle mutazioni particolari, e quindi fare un discorso proprio adatto alla persona, disponibile a qualsiasi professionista, anche se te vede per la prima volta, purché appartiene a un circuito, dove c'è comunque l'autorizzazione del paziente, a dire, in questo circuito, i miei dati sono disponibili, per i professionisti, personalizzazione, e poi ci sono le azioni, le cose da fare. Sì, ci sono tantissime cose, Diego, che si potrebbero fare, e che secondo me, anche perché fa risparmiare un sacco di soldi al sistema sanitario, ma dà possibilità agli imprenditori, quindi non vi impavolite, perché potete fare... Tu hai fatto un dato chiaro, hai detto diabete di tipo 2, hai detto sempre 2. Ho fatto un esempio. Ha una spesa economica. Ma l'abbiamo già visto in una trasmissione, abbiamo visto con i dati, Istat... Quelle risorse, se non ci fosse... Perché il diabete di tipo 2, siccome viene proprio per cattiva alimentazione, sì, ma non solo quello... Cattivo movimento e tutto, se... Non è autoimmune, cioè non è il diabete di tipo 1, no? Che comunque migliorerebbe anche quello. Certo, però... Migliorerebbe... L'origine è diversa. No, però quelle malattie che si originano per i comportamenti sbagliati, noi potremmo nel tempo abbatterle e comunque gestirle meglio se le gestiamo non solo col farmaco, che quando serve va preso, perché se tu guardi il bugiardino, che ne so, del nuovo norme, che ti dice che è un ipecoglicemizzante, ti dice che è da utilizzare quando lo stile di vita, attività fisica e dieta non è sufficiente. Quindi benvengano i farmaci, mica facciamo la guerra ai farmaci, ci mancherebbe, però è ovvio che se io riesco a portare una persona, intanto a non ammalarsi, che è la cosa che diceva, chi è già ammalato, a migliorare, eccomene uno, a migliorare le sue condizioni attraverso uno stile di vita e meno farmaci. Però non ammazza nessuno, poi abbiamo un disegno di legge, abbiamo detto mille volte, presentato, ma sta dentro il cassetto, perché chiaramente le cose intelligenti non vengono guardate. però noi spuntiamo ad avere una prima comunità, Life New Deal, cioè questo è il nostro, è il progetto che tu hai, no? è una parte importante, non unica, di un progetto che per spiegarlo ci vuole un attimino che qualcuno si ascolta. Ma io sono convinto che troverai ascolto perché in sé hai l'attualità che conferma quello che tu stai dicendo da molti e molti mesi. Oggi chi decide, diciamo, sono le grandi aziende, la loro capacità di lobby, la politica, e la politica, le grandi aziende si muovono sul denaro. Cioè, sono aziende, sì è vero, si occupano della salute, ma la loro cosa che non possono rinunciare è quello del fatturato. Per il fatturato possono fare anche cose che sono un po' discutibili. i politici si muovono solamente per il consenso, quindi, chiaramente, hanno l'opposizione che sta lì, anche nei momenti in cui stiamo morendo tutti, l'opposizione ancora sta lì a criticare, no? A che cazzo serve questo atteggiamento così? Io in questo momento sta andando a fuoco il palazzo, sei uno stronzo, ce l'ho con te, però, in questo momento aiuta a spengere. Poi arriverà il momento in cui comunque, anche perché è meglio che io aiuto a spengere, o meglio che io faccio una cosa che non serve. Ma serve fare questa polemica continua? Non serve. Allora, se è casomai, invece di fare la polemica, di accusare, di dire tutto sbagliato alla capezzone, non mi faccio pure i nomi, diciamo che, cerchiamo di dire, io nella mia azienda, l'altro giorno dicevo a una mia dirigente, dicevo, dico, senti, ma ho capito, ma non facciamo polemica, c'è un problema, affrontiamolo e risolviamolo. Perché a noi ci interessa risolvere il problema. ma se invece mi interessa mettere a te, alla berlina, e dire che tu non vali niente, io so bravo, perché così dopo vinco e vado al potere e faccio quello che mi pare, quindi la gente mi vota al 30% come i grillini, al 34%, poi dopo mi vota al 15%, perché viene delusa sicuramente, perché io non ho fatto una cosa orientata al bene, come ho fatto, una cosa per fare slogan. Quindi faccio i navigator, no? I navigator. Apriremo un tema che non è dell'oggi. Ma voglio dire, il navigator, ma se il lavoro bisogna creare il lavoro, poi ti preoccupa che i lavoratori li troviamo. Cioè, non è il problema che il lavoratore incontra il lavoro. A noi oggi interessa il problema è creare lavoro. E' interessa costituire, ci batteremo per questo, creare la prima comunità Life, New Deal, è l'inizio, è lo start. Speriamo che i sindaci, come dire, prima o poi qualche sindaco cominci ad ascoltarti. Se troviamo qualcuno che gli frega della salute dei cittadini, siccome non lo dico io, lo dice il mondo scientifico intero, che la prevenzione è l'unico modo per salvaguardare la salute, altrimenti, prima o poi, molti si ammalano e quindi devono curarsi. Per curarsi impegnano molto il sistema sanitario, il sistema sanitario arriva e non c'è i soldi, noi poi usciremo dalla situazione che proprio i soldi debiti a fru di pelle. Non abbiamo altri argomenti. ma lo so come andiamo a fare. Il tempo esolisce, io ringrazio Antonio Pestici, presidente del Villaggio Salute, per il suo contributo prezioso, energico e brillante dato anche oggi. Io auguro a tutti voi in questo weekend di essere energici e brillanti come Antonio Pestici. Buon weekend. Grazie a tutti. 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 Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com. 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20. 21, metto uno in più, vabbè? 3 kg, vedi, dai. Ciao. Guarda un po' quant'è questa. 3 kg e 100 sopatti. La salsiccia va come il vento, 3 kg di salsiccia. Qui, 3 kg hai detto? Eh? 30 sopatti. Venite con me. Io prima di comprare qualcosa, il maiale soprattutto, voglio che sia italiano. Allora vengo qua all'antica Norcineria Lattanzi Franco e guarda, guarda, non le comprereste tutte? Mamma mia. È che mi fa un po' male al fegato, dopo un po', però tutta sta fila se può fare, come si dice a Roma, se può fare. Oh, senza conservanti, senza coloranti, senza glutine, senza lattosio. Da chi? Da Lattanzi. Tutta roba italiana. Tutte. Antica Norcineria di Lattanzi Franco e Figli, via Casilina, chilometro 21 e 600, laghetto di Monte Compatri, telefono 06 94 76 055, www.antica-norcineria.com.